Irma Testa è un film bellissimo su di te che si chiama Butterfly, racconta una parte importante della tua vita che ovviamente continua e si inizia con i tuoi sacrifici perché il tuo obiettivo è essere, come viene ricordato spesso sul film, quello che poi sarai la prima donna pugile che gareggia le Olimpiadi. Tanti sacrifici e tu dici anche che hai messo da parte i tuoi 18 anni. Uno dei sacrifici più grandi è stato questo, abbandonare per un attimo la mia adolescenza e la mia crescita personale per approfondire e maturare quella da atleta. Sacrifici che poi sono stati persi, però questo poi è un altro capitolo, il rischio da pagare e sono contenta di averlo pagato perché adesso mi sento più matura e più forte. Ecco, in quella parte della tua vita, quella prima, diciamo, delle Olimpiadi, ti rendevi conto, hai iniziato a un certo punto a renderti conto che stavi perdendo qualcosa, inizialmente però no, perché la passione certe volte, come dire, acceca anche, no? In senso positivo. La passione, finché c'è la passione c'è tutto. Poi se della tua passione puoi fare la tua professione sei fortunata. L'importante è coltivarla sempre, perché è come un po' il fuoco, no? Se ci metti l'acqua si spegne. E finché è viva, io mi sento viva. Poi c'è stata questa sconfitta che in qualche modo divide quasi a metà il film, no? E tu rimetti in discussione tutto, tutto è anche te stessa. Dalla sconfitta bisogna sempre prendere il meglio. Non è facile, non è stato facile per me e non lo è per nessuno. Bisogna prendere il meglio perché quella sconfitta ti deve fortificare, deve fare in modo che le sensazioni che hai provato quando hai perso e quando hai vissuto la sconfitta in primo piano ti possa far talmente male da non volerla poi riprovare in futuro, no? E quindi impegnarti ancora dei più per poi raggiungere una vittoria e non un'altra sconfitta che fa male. Per sottolineare la grande forza della tua passione, tu a un certo punto dici che persino la sensazione di mancanza di fiato ti manca. Cioè ti manca proprio quella sensazione che in realtà uno non vorrebbe mai provare, no? Paradossalmente. Certo, è quella sensazione che però poi ti manca dopo un po' quando sei lontana dal ring e dalle corde, no? E non vorresti mai starci in un ring. Però poi quando ci sali la prima volta è difficile starne lontano. Hai avuto un maestro che ti ha aiutato tanto ad iniziare e anche poi dopo appunto la sconfitta di cui parlavamo a ricominciare. Eh sì, anche perché poi è stato l'unico a starmi vicino e a volere che poi tutti gli altri mi circondassero di nuovo. E lui è una persona splendida e tutti dovrebbero avere nella vita una persona come lui perché te la cambia e te la rende veramente migliore. Per avere più fiducia in se stessi è importante che anche gli altri ti stiano vicino? Assolutamente. Però questo non vuol dire che se gli altri non ti sono vicino devi mollare, devi cambiare strada. Assolutamente. Se gli altri ti sono vicino è una fortuna perché hai un aiuto in più. Se così non dovesse essere bisogna continuare sempre a credere in quello che si vuole fare come ho fatto io all'inizio. È un film documentario dove però alcune scene non che vengano rigirate però non sono proprio prese in diretta tra virgolette. La mia curiosità vedendo parte del film è stata questa. Ti sei sentita in alcuni momenti anche un po' attrice? In alcuni momenti sì. Questo poi dopo, quasi alla fine del film, quando alcune scene sono state modificate. Mi è piaciuto anche. Sì, mi piace. Non si sa mai nella vita? Non si sa mai. Magari in un futuro. Comunque per chiudere in bellezza adesso si ricomincia e si passa un obiettivo nel bene o nel male e adesso ne arriva un altro obiettivo che si chiama Tokyo. Le Olimpiadi ormai sono il mio incubo, il mio sogno. Da molti anni, quindi finché non avrò raggiunto di nuovo quella sensazione magari di fare meglio di come ho fatto a Rio, non smetterò. Grazie in bocca al lupo e poi ricordati che hai sempre un futuro d'attrice. Grazie. Grazie. Grazie.